Doppio derby nella giornata 27 del Girona F di serie di a Castelnuovo e Vasto arrivano rispettivamente Notaresco e Pineto per due scontri, a distanza ravvicinata dal turno infrasettimanale di campionato. Il clou si gioca però all'Angelini di Chieti, perché la sfida con la San Benedettese per storie e tradizione è un fascino assoluto. I roverdi di Lucarelli che mercoledì, sotto la pioggia, hanno regolato il Matese grazie al gol di Eluasni, sarà confermato in prima linea vista l'assenza di Fabrizzi. Il Chieti in casa dopo le difficoltà iniziali sembra essere diventato molto solido. Dalla parte opposta la San Benedettese ha trovato la quadratura anche se negli ultimi appuntamenti segna col contagocce del Reduce da 2-0 a 0 consecutivi contro Castelfidardo e Vastese. È possibile che Lucarelli possa variare qualcosa? Specie sulle corsie esterne, atteso il grande pubblico all'Angelini, col Chieti che in caso di risultato positivo potrebbe passare sul lato sinistro della classifica e vedere alimentate alcune chance playoff. È stato un po' difficile inserirmi, però piano piano ho lavorato, ho cercato di dare tutto me stesso anche in 5 minuti. Sono contento dei frutti perché alla fine facendo questi gol, dando 4 punti alla squadra, sono molto orgoglioso e felice di aver dato questo contributo. Nel primo incontro tutto abruzzese è quello di Castelnuovo, gara a porte aperte perché sono terminati i lavori di ammodernamento del comunale e già dalla gara di domani ha disposizione i tagliandi per assistere ad un match, quello che corre lungo il fiume Romano, tra due squadre che hanno chiuso il loro impegno mercoledico risultati differenti ma con spirito comunque sollevato. Il pari di Roma col Trastevere e soprattutto l'ottima prestazione danno conforto a Guido Di Fabio che ha ritrovato lo spirito della sua squadra anche se ha qualche cruccio di formazione. Da valutare fino all'ultimo infatti le condizioni di Lorenzo Emilio, Orlando e Spalvoli. Tegola tra i pali perché la lussazione del gomito di Alonzi potrebbe far calare con ampio anticipo il sipario sulla sua stagione. Epifani sul fronte opposto ritrova a centrocampo Bruno dopo la squalifica e con tutta probabilità anche Vittorio Esposito davanti. Si torna al 4-2-3-1 con Maio che riprenderà il suo posto al centro dell'attacco. È una partita difficilissima perché poi loro sono anche loro in un momento positivo ma le partite di questo campionato sono tutte difficili. Pensare che noi abbiamo pareggiato con tutto il rispetto con Inereto, una partita che tutti ci davano per vinta, quindi vuol dire che è un campionato difficile. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo recuperare le forze, recuperare qualche giocatore e speriamo di recuperarlo per domenica. E sicuramente andiamo a fare un'altra grande gara contro una squadra che sta bene in questo momento. L'altra sfida tutta abruzzese all'Aragona tra Vastese e Pineto, biancazzurri unici che non hanno disputato il loro match mercoledì per casi di positività all'interno del gruppo squadra del Porto d'Ascoli. Mentre gli uomini di Fulvio D'Adderio sono reduci dal pareggio senza reti del Riviera delle Palme. Il riposo forzato ha consentito ad Amaolo di prepararsi al meglio per una sfida, quella di domani, che gli aragonesi vogliono vincere per cancellare l'ultimo scivolone interno contro il Tolentino. Mancherà Di Filippo, fermato per un turno dal giudice sportivo, mentre D'Adderio tornerà ad avere a disposizione Monza, Allegra e Altobelli. Noi da inizio anno ci siamo prefissi l'obiettivo di migliorare la posizione dell'anno scorso, quindi sì, puntiamo ai play-off anche se pensiamo partita dopo partita, anche perché in questo girone ogni partita c'è da lottare, quindi ora testa alla prossima col Pineto. Partita interna infine per il Nereto che ospita il Fiuggi, invibrata la scoppola pesantissima, rimediata a Pietra Melara contro l'Aurora Alto Casertano complica maledettamente un campionato e con otto giornate ancora da disputare vede i Rosso-Blu ancora fermi al penultimo posto, peggior difesa del raggruppamento con 59 reti subite e una distanza dalla terz'ultima piazza occupata dal Castelfidardo, lontana 16 punti, un divario pressoché incolmabile e che suggerirebbe di iniziare a programmare la stagione che verrà dopo questa di esordio nel quarto campionato nazionale.